Il sangue viene bevuto da tutti allo sbranamento di fratelli e cugini. Questa ragazza è stata stuprata, si levano fumi di un cielo sopra un fumato e colorato, messaggi di voto per il fallo come simbolo della morte. L'uomo è capace di incredibili crudeltà, ma quelle che vedete sono armi da guerra. Solo l'uomo mangia anche se non ha fame e ruba anche se non ne ha bisogno. Dovrà mangiare il cuore del padre. Abbiamo osservato come una cosa comuni tutti i nascitori, se noi siamo i giovani animali. Il pianto, forse vogliono dimostrarci il loro rifiuto a essere trascinati a tutti i costi in questo mondo. Il pianto, forse vogliono dimostrarci il loro rifiuto a essere trascinati a tutti i costi in questo mondo. Il pianto, forse vogliono dimostrarci il loro rifiuto a essere trascinati a tutti i costi in questo mondo. Il pianto, forse vogliono dimostrarci il loro rifiuto a essere trascinati a tutti i costi in questo mondo. Il pianto, forse vogliono dimostrarci il loro rifiuto a essere trascinati a tutti i costi in questo mondo. Il pianto, forse vogliono dimostrarci il loro rifiuto a essere trascinati a tutti i costi in questo mondo. Il pianto, forse vogliono dimostrarci il loro rifiuto a essere trascinati a tutti i costi in questo mondo. Ciro! 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 Ciro!